Buongiorno a tutti sono Davide Papa, sono l'amministratore delegato della scuderia Diem dei Roma 3 che si occupa appunto di realizzare un ROV che è la competizione Metro. Questa scuderia nasce l'anno scorso durante il corso di progettazione promozionale del professor Belfiore dove sei di noi hanno deciso di intraprendere questo progetto e di realizzare questo dispositivo. Questo ROV è caratterizzato da sei trastare, da sei motori che permettono di muoversi sia lungo il piano verticale che lungo il piano orizzontale e è stato progettato e prodotto interamente da noi, sia del telaio che la disposizione dei vari altri elementi. Al centro vi è la parte del cordel ROV dove vi è l'elettronica, dove vi è tutta la gestione della parte di potenza e di trasmissione del segnale. Tutto il dispositivo deve essere collegato a rete, non ci sono batterie all'interno e viene gestito da un operatore all'esterno della piscina per la competizione sulla ground station. Dalla parte davanti del ROV abbiamo il manipolatore che si può vedere qui davanti. Il manipolatore è dotato di 3 gradi di libertà e gli permette l'afferraggio di alcuni elementi previsti dalla competizione. Qui invece a sinistra abbiamo il volume di galleggiamento che permette un perfetto movimento lungo la quota del nostro ROV. Questa competizione si svolge annualmente in tutto il mondo e ci sono diverse competizioni sia in America che in Europa stessa e ci sono diverse classi in cui parteciperemo. Noi parteciperemo in maniera futura alla classe Pioneer che è la classe introduttiva e in cui speriamo che potete farlo molto bene. Un saluto dalla scuderia, continuatevi a seguire per vedere tutti i prossimi progressi. Grazie a tutti!